sono troppo belle brava bambina brava ma come mai la porcella non vuoi mangiare si ma guarda che se va su internet sto filmato e sei qua come una scaricatrice di porto ma non c'è l'audio ah ciao no perché guarda l'amore ma chi è quello lì tranquilla non c'è l'audio